Buonasera, benvenuti 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Monica Guerzoni, giornalista politica del Corriere della Sera, buonasera Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, buonasera Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, mentre la Camera respinge la mozione di sfiducia contro Salvini, la Boschi propone la par condicio dei giornalisti, qualunque cosa questo voglia dire, lo capiamo subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, allora comincio da te perché oggi Maria Elena Boschi di Italia Viva ha proposto in Commissione Vigilanza RAI di estendere a giornalisti e commentatori le regole della par condicio che valgono per i politici, fino al punto di escludere dalle trasmissioni della RAI gli opinionisti che definisce schierati e ha fatto un esempio ben preciso. Ha detto, le sentenze che condannano Travaglio come pregiudicato e diffamatore dimostrano che non è credibile come giornalista imparziale. Che sia politicamente schierato lo sanno anche i muri. Come rispondi e che cosa vuol dire quando i politici vogliono decidere chi sono i giornalisti buoni e quelli cattivi? Intanto do una notizia. Quasi tutti i giornalisti sono pregiudicati o pluri pregiudicati perché vengono querelati continuamente a manette e ogni tanto perdono una causa. Io su 300 penali ho avuto una multa a 1000 euro da pagare a previti. Se questo fa di me una persona non imparziale, non capisco che cosa centri la parzialità o l'imparzialità. Ma questa poveretta non sa proprio che cosa vuol dire imparzialità. Lei la scambia con l'assenza di pensiero. Noi abbiamo molti politici che si circondano di esseri depensanti e quindi pensano che se uno ha un pensiero non è imparziale. Io sono schieratissimo eppure sono imparziale perché sono schieratissimo dalla mia parte, dalla parte delle mie idee che difendo in qualsiasi circostanza, possibilmente senza cambiarle. Se le cambio spiego perché mi ero sbagliato prima, perché non si può fare tutte le parti in commedia come invece fanno i politici. Dopodiché questa cosa a me non mi riguarda perché io tanto in Rai non ci metto piede. Io sto da te Lilli perché hai la bontà di invitarmi e sto al 9 ad accordi e disaccordi quindi non mi interessa. È molto ridicolo quello che succede perché tra l'altro è una vecchia storia, è un'eternità. Ci avevano già provato i berlusconiani più stupidi a ripulire le trasmissioni di quelli che loro dicevano essere schierati, avendo una battaglione di giornalisti non schierati ma pagati dallo stesso Berlusconi che ovviamente tiravano dalla parte di chi li pagava. Io ho la fortuna di dirigere un giornale che si pubblica da solo. Adesso sarà interessante vedere chi sarà a decidere chi è schierato e chi non è schierato. Io non vedo l'ora ma temo che la Boschi come le accade spesso ultimamente non se la filerà nessuno e che quindi anche questa finirà nel nulla. Massimo Giannini, perché fare una, non so, chiamiamola provocazione del genere? Chi dovrebbe stilare questa lista di giornalisti schierati, ovvero di giornalisti cattivi e su quale base? Perché comunque la Federazione Nazionale della Stampa in serata attraverso la segretaria generale Alessandra Costante ha detto che la parco undicio per i giornalisti è un limite alla libertà surreale la proposta della Boschi. Quindi intanto si parla della Boschi comunque e di questa proposta. Allora sai perché te lo chiedo e lo dico anche alle spettatrici e alle studiatori? Perché diciamo in questi mesi anche di governo di destra a destra abbiamo visto non una grande simpatia per il giornalismo critico e in generale per i poteri di controllo. Quando succedono queste cose a me viene sempre in mente un meraviglioso spot che fece il Washington Post in un Super Bowl del 2019, non so se ve lo ricordate, che si concludeva con la seguente frase la democrazia muore nell'oscurità. Era una ricostruzione del ruolo della libera informazione in una grande democrazia. E raccontava tutti i tentativi che la politica sempre fa per mettere la mordacchia e ingabbiare la libera informazione. Questo rientra in questo contesto qua. In Italia purtroppo, non è la prima volta, ci hanno provato già tante volte, l'informazione quando soprattutto si avvicinano le elezioni diventa un terreno di conquista. Allora, io sono convinto che questa proposta della Boschi non andrà da nessuna parte per ovvi motivi, è inattuabile, impraticabile, insensata. Però diciamo è significativo. Però ecco, riflette questo approccio. Con un aggravante però, ecco, questo lo voglio dire, intanto in un paese normale una legge sulla par condicio non dovrebbe esistere neanche per i politici, perché un serio servizio pubblico, radio televisivo, ha le sue regole, la BBC ha le sue regole, non ha bisogno di una legge che gli prescrive quanto tempo deve parlare uno e quanto tempo deve parlare l'altro. Ma meno che mai, per quello che riguarda i giornalisti, la RAI oggi, e questa è oltretutto l'insensatezza della Boschi, la RAI oggi è tutto fuorché una garanzia di imparzialità. Se noi vediamo come stanno le condizioni dell'informazione radio televisiva pubblica di quest'ultimo anno e mezzo, ma c'è da mettersi le mani nei capelli. Lei si consegna la RAI perché preferisce quel terreno più neutrale, ma non è neutrale per niente, tra le altre cose. Dopodiché, concludo, c'è un problema di informazione in Italia, ma c'è nel senso opposto a quello che dice la Boschi e quello che sostengono coloro che ora diranno che la Boschi ha ragione. Cioè, c'è un pezzo di informazione nelle mani di un parlamentare della maggioranza che controlla una sfera sempre più estesa del giornalismo italiano. E adesso stai parlando di Angelucci. Il resto sono chiacchiere. Senatore della Lega. Adesso ci arriviamo. Italo Bocchino, c'è una qualche motivazione che vorrei ricordare che la politica, invece di risolvere il problema di fondo del nostro paese che è il conflitto di interessi, dai tempi di Berlusconi, hanno già allora inventato la par condicio, adesso la vogliono addirittura ampliare con delle cose veramente un po' surreali. Oppure ci vedi qualche cosa di fattibile, di serio per una democrazia, diciamo? Poi nelle non-democrazie esiste di tutto di più. Ma allora, io ho trovato molto interessante l'intervento di Massimo Giannini. La sua critica alla legge sulla par condicio, che ricordiamolo, è una legge che fu fatta nel 2000 in vista delle elezioni politiche del 2001 quando la sinistra fece questa legge contro Berlusconi e contro il centrodestra. Quindi la stupidità della par condicio. No, voglio solo ricordare, però scusami Italo, per correttezza. È del 2000 la legge. Sì, ma perché c'era un conflitto di interessi riconosciuto in tutto il mondo libero che era rappresentato da Berlusconi, che era proprietario di metà del cielo televisivo e controllava anche quello pubblico. Ricordiamolo. Quando il problema era Berlusconi, proprietario delle televisioni, si sosteneva che bisognava limitare la libertà con le par condicio. Ma l'hai sostenuto anche tu? E la sinistra, un attimo solo, sto solo raccontando storicamente cose che accadono. La sinistra ha fatto la legge sulla par condicio. Ha ragione sempre Massimo Giannini quando citando il bellissimo spot del Washington Post dice che la democrazia muore nell'oscurità, ma la democrazia muore anche negli incendi. Quindi che cosa accade? La proposta della Boschi è una proposta utopicamente ragionevole e impossibile da mettere in pratica. Lei in realtà ricalca quello che ha depositato nei giorni scorsi la Gcom. Ma perché è ragionevole? Perché è ragionevole quello che scrive la Gcom, articolo 7,3, prima che parlasse la Boschi, e scrive, dicendo, della necessità di equilibrio nelle trasmissioni, per quanto riguarda i politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Siccome sei anche giornalista, chi decide? Ho detto che è impossibile da applicare. Cioè bisogna che facciamo l'albo degli opinionisti. Ma va criticata proprio alla radice, è una cosa che non può stare in piedi. Io critico alla radice la legge sulla par condition. Ok. Faccio prima di te, va. Ma non critichi l'anomalia italiana del conflitto di interesse? Per me non ci deve essere la legge sulla par condition, nel senso che il conduttore invita quello che ritiene che dia delle risposte, migliori, che faccia più audience, che piaccia di più ai telespettatori. E poi spetta al giornalista, a ognuno di noi. Ci sono anche giornalisti che cercano di fare questo mestiere in modo serio e deontologicamente serio. È il giornalista che deve trovare deontologicamente l'equilibrio. Il fatto che i RAI, anziché appellarsi alla deontologia del giornalista, bisogna andare a fare un regolamento, a pensare a quello che scrive la G.com, all'emendamento della Boschi e alla legge sulla par condition, mi fa pensare che qualcosa è saltato nei meccanismi anche della deontologia. Oppure qualcosa è saltato anche nella testa dei politici. Ma rischiamo che salti l'articolo 21 della Costituzione. Cioè, ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero. Senza censure, ma forse anche senza etichette. Santo cielo, ma io devo andare in RAI con l'etichetta neutrale, oppure sinistra o destra. Ma siamo a questo. Non ci devono essere etichette. L'errore è stata la legge sulla par condition, che la sinistra ha voluto ragioni politiche. Ma l'errore forse è un problema di oggi. L'ha inventato la sinistra italiana? Allora, no, 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 però scusatemi. Ti do subito la parola a Gianni, voglio sentire Marco Travaglio, perché non parliamo della par condicio. La Boschi è di sinistra, la par condicio ha voluto la sinistra. La Boschi è di sinistra, però... Sembra che la colpa sia della destra. Marco Travaglio, per favore, perché siccome noi abbiamo... Io ho lavorato in RAI con la par condicio e ho lavorato negli anni d'oro del massimo del conflitto di interessi. Motivo per cui è stata varata la necessità di una par condicio. Marco Travaglio. Ma la par condicio è stata varata perché c'era il proprietario di metà del sistema televisivo che era entrato in politica e utilizzava le sue televisioni per fare propaganda al suo partito. E il partito di Bocchino, quando si è staccato da Berlusconi, se ne è accorto perché quelle televisioni sono state usate come manganello contro Fini e anche contro di lui. E lui in quel momento si è accorto di quanto era utile la par condicio. C'erano tutte le star di Mediaset che facevano gli spot elettorali a Berlusconi Marco, c'era la par condicio e l'hanno fatto lo stesso. Questa è la ragione. Ma la par condicio riguarda la presenza dei politici in campagna elettorale, in televisione. Cosa c'entrano i giornalisti? Il giornalista va in televisione per dire oggi piove se piove, oggi c'è sole se c'è sole. La Boschi vuole il contraddittorio perché ci sia, accanto al giornalista che dice che piove, un giornalista che dice che c'è sole. E se io dico che la Libia è in Africa, ce ne vuole un altro che dica che la Libia è in Sud America. Questo è quello che vuole. Ma che sono Marco Travaglio? Perché non le piace il che sono. Io voglio sapere chi sono i giornalisti imparziali in questo schema. Tu sei un leader politico dei 5 Stelle anche. Bisogna dirlo. La linea la dei tuoi 5 Stelle. Io non sono leader politico di niente, non mi sono mai candidato. Quindi è giusto. Non dobbiamo nasconderci dietro il dito dell'imparzialità. Molti di noi, io compreso, io sono un giornalista militante, lo ammetto. Tu sei un giornalista militante, ammettilo anche tu. Tu sei il direttore di un giornale di partito e io sono il direttore di un giornale che critica tutti quelli, ma neanche per idea, ma nemmeno per sogno. Non leggi meglio il tuo giornale. Leggi meglio il tuo giornale la mattina. Ti faccio un esempio tra i mille. Sai chi ha fatto avere il primo avviso di garanzia alla Raggi? Il fatto quotidiano. Sai chi ha massacrato i 5 Stelle quando hanno coperto Salvini con l'immunità per il caso della Diciotti? Il fatto quotidiano. Perché? Perché noi siamo contro l'immunità parlamentare e chiunque ne abusa noi lo attacchiamo. Quindi a me non me ne frega niente 5 Stelle o non 5 Stelle. Se i 5 Stelle fanno la spazza corrotti gli do ragione perché l'ho chiesta prima che nacessero. Ma se fanno una cosa che è contro le mie idee io li attacco. Quindi con me non attacca questo discorso. Dopodiché, dato che mi stavo domandando chi sono i giornalisti imparziali, ho provato a indovinarli. Sul fatto di domani ho fatto una rassegna. C'era un giornalista che si chiama Bruno Vespa che paragonò Maria Elena Boschi a Santa Teresa Davila che scolpita dal Bernini per Santa Maria della Vittoria a Roma acquista sensualità nel momento in cui la trafigge la freccia dell'estasi divina. Ecco io immagino che per la Boschi questa sia imparzialità. Questo a casa mia si chiama lecchinaggio. Non vuoi attaccare Bruno Vespa che è un giornalista di comprovata professionalità di lunghissimo corso. Non è un giornalista che ha scambiato la Boschi per Santa Teresa Davila. Si crede equidistante ed è equivicino come diceva Gian Antonio Stella. Ma ho fatto un solo esempio, domani ne troverete tanti altri. L'ho fatto perché la Boschi dice che si sente garantita dai giornalisti della RAI e non vuole quelli fuori. Perché? Perché alla RAI, nei quattro anni del governo Renzi-Boschi, la RAI era tutta renziana e boschiana. Era tutta così. Il problema è che non si sono accorti... Era Giannini per la verità che poi è stato cacciato. E poi è stato cacciato proprio per ordine loro, proprio perché parlava di Banca Etruria. Quindi calza a pennello. E gli altri sono rimasti. Ma adesso che Renzi e la Boschi non contano più niente, tutti i renziani di allora sono diventati della Lega, di Fratelli d'Italia, sono tornati in Forza Italia o sono rimasti nel PD. E quindi ho l'impressione che la Boschi, anche con quelli della RAI, abbia poco da pescare. Perché? Perché quando non conti più niente alla RAI non ti si fila più nessuno. Massimo Giannini. Sì, allora, intanto sì, sono testi... Tra l'altro voglio dire che Maria Elena Boschi è stata da noi invitata questa sera, ovviamente in trasmissione, ma ha declinato l'invito. Sono testimone, mio malgrado, di quella stagione come ricordavi tu. Ed effettivamente già in quella circostanza si era capito qual era l'idea di giornalismo che piaceva a Renzi e ai renziani. Quindi non mi stupisce di quello che succede oggi. Però, detto tutto questo, per chiarire sulla par condicio, io ho detto prima che in un paese normale la par condicio non dovrebbe esistere, ma per la ragione banalissima che in un paese normale, hai fatto bene tu a precisarlo Lilli, non dovrebbe esistere il conflitto di interessi. O meglio, dovrebbe esistere una legge che disciplina in maniera severa il conflitto di interessi. Cosa che ai tempi di Berlusconi purtroppo non è stata fatta. Adesso tra l'altro sta per arrivare un altro conflitto di interessi, perché se Leni vende l'agenzia di stampaggi che anche oggi sciopera, i suoi giornalisti scioperano, contro la ventilata possibile e probabile acquisizione da parte del senatore della Lega, nonché re delle cliniche della sanità privata Angelucci, compra un'agenzia che, come dicevo prima, si aggiunge già alla proprietà del giornale di libero e del tempo, un parlamentare della Lega. Ditemi voi se questa è una cosa normale. Dopodiché, per concludere su Berlusconi, la ragione per la quale si dovette ricorrere alla par condicio era una sorta di riduzione del danno, perché era padrone di tutto, tre reti private e le tre reti pubbliche come Presidente del Consiglio, o andavamo tutti la domenica in piazza a fare ginnastica come ai tempi del Ducio, o sennò qualche cosa dovevi fare. Ti avrebbe fatto bene. Sì, vabbè, è sicuro. La par condicio è stata quella. Poi è diventata la foglia di fico. Oggi è una foglia di fico la par condicio, diciamo la verità. E l'idea di trasformare anche i giornalisti, opinionisti, ragione Monica, violando l'articolo 21 della Costituzione, è un'idea illiberale, che purtroppo però c'è nella politica di oggi. C'è. Allora, Monica Guersoni, oggi da un punto di vista della politica e di politico è successo che la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro Salvini e ovviamente è stata bocciata dalla maggioranza poco fa. Domani ci sarà quella della ministra Santanchè. Ha senso questa prova di forza? Perché in realtà il governo è ricompattato su queste due, e si ricompatterà anche domani, no? Non c'è dubbio, ma chiaramente le opposizioni sanno che l'effetto è quello di ricompattare, ma devono approfittare di ogni possibile occasione per mettere in luce le contraddizioni, i conflitti e anche i problemi legati a certi ministeri, come quello di Daniela Santanchè, perché ovviamente l'articolo della Costituzione è indagata per truffa ai danni dello Stato, per cui qualcosa di molto serio e molto grave. E danni dell'Inz. Ovviamente lei assicura che niente di tutto questo è stato fatto, che Visibilia non si è mai approfittata della cassa Covid e che tutte le inchieste precedenti che l'hanno coinvolta e che sono state montate ad arte dalle opposizioni, attraverso anche i media di supporto alle opposizioni medesime, non le hanno fatto un danno perché lei è sempre uscita pulita, che uscirà sempre pulita, anche questa volta benissimo, dopodiché l'opposizione deve ovviamente marcare il territorio. Qualcosa ha ottenuto, se non altro, sul fronte di Salvini, perché ieri abbiamo visto per la prima volta che la Lega ha fatto un comunicato, una nota di presa di distanza dal partito di Putin, da Russia Unita, con il quale aveva un contratto, un rapporto. Adesso la Lega dice che è una questione economica, di scambi commerciali, eccetera, non c'entra niente la politica. Ma durante tutto il conflitto in Ucraina non c'è mai stata una presa di distanza così netta. Quindi un punto è stato segnato a favore delle opposizioni. Dopodiché, è chiaro, con una maggioranza parlamentare del genere, con 240 deputati di maggioranza, non poteva esistere. Marco Travaglio, tra l'altro oggi si è rivisto anche il senatore Angelucci della Lega per l'appunto, che è un record man delle assenze in Parlamento e che è venuto a votare per votare contro la mozione di sfiducia al suo leader, a Salvini, evidentemente. Marco Travaglio, che segnale è per la situazione politica e per la maggioranza questa due giorni di mozioni di sfiducia? Perché adesso la maggioranza è sicuramente ricompattata. Beh, ma sai, con questo ragionamento, se le opposizioni dovessero fare soltanto ciò che le fa vincere in Parlamento, non dovrebbero fare assolutamente niente, perché essendo che sono opposizioni, non hanno la maggioranza, la maggioranza, a meno che non ci siano franchi tiratori, ma si è votato palese, e non ci siano assenze, ma erano stati precettati, tant'è che ci è andato addirittura Angelucci, che non lo vedevano dalla notte dei tempi, è ovvio che sono battaglie di testimonianza, sono battaglie tanto per far vedere ai cittadini che l'opposizione fa il suo mestiere. E poi per fare delle battaglie di principio, non tutte le battaglie perse sono battaglie sbagliate, anzi, spesso le battaglie migliori sono quelle che si perdono, però nello stesso tempo si fanno girare delle informazioni, si dicono delle cose, si costringe la Lega, come diceva Monica, a disconoscere quel patto con toni così perentori che era stato siglato nel 2017-2018 con Russia Unita, insomma, si rende dotta la cittadinanza del fatto che la Sant'Anché dopo aver chiesto le dimissioni dell'universo mondo, perché non c'è politico di centro-sinistra di cui la Sant'Anché non abbia chiesto le dimissioni nella sua vita, c'è una sfilza di sue richieste di dimissioni pazzesche, alcune aveva ragione la Sant'Anché, per altre faceva ridere i poli. Stavolta, sì, 18, ci sono dei fact checker che si sono divertiti a fare l'elenco dei suoi tweet in cui diceva vattene, levati dalle palle, eccetera, quindi voglio dire, oggi è chiaro che una maggioranza normale avrebbe dovuto accompagnarla alla porta, anche perché lo sanno pure loro che la dovranno accompagnare alla porta, stanno solo aspettando lo step e si stanno domandando la mandiamo via quando c'è la richiesta di rinvio a giudizio e diventa imputata? La mandiamo via se ci sarà il rinvio a giudizio? Aspettiamo la sentenza di primo grado? Nel frattempo è ovvio che verranno depositati gli atti nell'udienza preliminare, quindi verranno fuori altre cose e quindi è ovvio che una maggioranza, una destra che fa della legalità, almeno propagandisticamente, una sua bandiera, deve decidere fino a quando sopporterà. Poi ci sono le guerre interne, quindi è ovvio che i leghisti tirano verso la Sant'Anché, i fratelli d'Italia tirano verso i leghisti, insomma c'è una competizione anche interna, quindi è giusto che le opposizioni cerchino di farla esplodere. Intanto mi corrego, ovviamente Angelucci non è senatore, ma è deputato, anche se no non sarebbe potuto andare oggi alla Camera per votare. Senti, Italo Bocchino, ma quindi qualora la Sant'Anché dovesse essere rinviata a giudizio per truffa ai danni dello Stato, si dimetterà? Guarda, questo dipende esclusivamente da una valutazione di opportunità politica che la persona è interessata. Allora, io penso che bisogna stare attenti a richiedere le dimissioni nei confronti di tutti, quelli di destra e quelli di sinistra, quando c'è soltanto una richiesta di rinviaggiudizio. Io stesso sono stato sottoposto a nove anni di procedimento penale, a 90 articoli del Fatto Quotidiano che mi descrivevano una serie di cose, sono stato assolto con le scuse per non aver commesso il fatto che la formula per dire scusa, il Tribunale dice ci scusiamo con l'imputato perché la Procura ha proprio preso una cantonata. E sono stato sospeso fino a che non mi hai chiamato tu a fare l'opinionista prima che ci fosse l'albo. Credo che ci sia scritto. Prima che ci fosse l'albo. Cosa dice Travagio? Intanto voglio ricordare che tu non eri ministro, tu non eri ministro, perché non c'è scritto che si scusano per aver preso una cantonata. Ho detto che la formula perché il fatto non sussiste significa che non sussiste il fatto per cui si è accusato. Cioè la formula più ampia, come tu sai bene, essendo un giurista acquisito nella militanza giornalista. No, ma hai detto che ti hanno fatto le scuse. No, no, ho detto questo. È la formula che significa che praticamente hanno preso una cantonata. ma detto questo, allora sospendere una persona dai propri diritti civili in attesa che un giudice si esprima, secondo me è un errore. È un errore secondo me. Quindi, diciamo, adesso io non credo che la Sant'Anchè sapesse, vista che c'era un delegato al personale, che c'era il pagamento o meno dell'Inps durante la cassa integrazione, Covid, eccetera. Lo decida un giudice, ma non sia oggetto di battaglia politica. Secondo me sarebbe un errore da parte del governo e da parte della maggioranza spingere la Sant'Anchiale di missioni soltanto con il rinvio a giudizio. Perché aprirebbe il fronte a politiche giudiziarie che potrebbero colpire la politica che è democraticamente scelta. Ecco, ma è una questione di opportunità anche perché un ministro che venisse rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato, nel caso specifico ai danni dell'Inps, è una cosa seria per chi sta al governo di un paese, no? O ha ragione Bocchino? Bisogna aspettare. No, non ha ragione Bocchino e spiego anche perché. Cioè, io credo che non debba valere, siamo tutti garantisti e lo diciamo sempre, una regola che funziona sempre e a prescindere. No, ok? Perché il tipo di reato per il quale vieni indagato e poi eventualmente imputato e poi addirittura processato fa una qualche differenza. Perché un conto è che io vengo denunciato, indagato e poi vado a processo per diffamazione, altro conto è come Santanchè, ricordiamolo, lei avrà sicuramente il rinvio a giudizio per la questione della truffa ai danni dello Stato all'Inps, è indagata per falso in bilancio, è indagata per bancarotta, lì vedremo se si arriverà anche lì alla richiesta di rinvio a giudizio e poi all'eventuale rinvio a giudizio. Hanno ritirato le stanze di fallimento, non ci può essere. Vedremo, sono tre reati, uno più grave dell'altro. Allora, io penso che in questo specifico caso una Ministra del Turismo, che non doveva fare la Ministra del Turismo, tornando al tema del conflitto di interessi, avendo lei un'azienda che opera in quel settore, no? Torniamo a Berlusconi e alla Parcondicio, però gliel'hanno fatto fare e va bene, prendiamoci pure questa. Adesso, se va a processo per un reato di quel tipo, io credo che a prescindere dal fatto che sarà condannata o meno per questioni di Costituzione, disciplina e onore, si deve dimettere, si deve difendere nel processo, speriamo tutti che sarà assolta con formula piena, però non può continuare a fare il Ministro, secondo me. Si deve dimettere, sì o no? È una questione di disciplina e onore, citando di nuovo Giannini. Cioè, è difficile rimanere da indagati e poi a processo con un fardello del genere dovendosi difendere nel processo e non dal processo ed esercitando contemporaneamente il proprio Ministero alla guida del turismo e credo che questa cosa imbarazzi anche Palazzo Chigi per quanto non sia stato dichiarato da nessuno. Imbarazzano anche Giorgio Meloni e i fratelli di Fraglia che si sono sempre presi grandi difensori della legalità. Dopodiché, avendo l'opposizione fatto la scelta che abbiamo visto oggi di presentare la mozione di sfiducia e avendo la maggioranza votato contro la sfiducia a questo punto diventa complicato per il centrodestra dire no va bene non ti difendiamo più. No, domani di sicuro la maggioranza sarà compatta nel dire no alla mozione di sfiducia delle opposizioni. Comunque adesso noi diciamo sì invece al punto di Paolo Pagliaro che ci porta in Europa. Guardate. Ci sono tre fatti da leggere in sequenza. Il primo è di ieri ed è un prestigioso riconoscimento internazionale la medaglia di Edimburgo che talvolta premia i Nobel ma che quest'anno è andato all'Istituto Mario Negri che nei suoi laboratori di Milano e Bergamo scopre nuovi farmaci e poi rinuncia a brevettarli perché come ha più volte spiegato il fondatore Silvio Garattini mercato e proprietà intellettuale funzionano molto male non garantiscono il diritto alla cura provocano disuguaglianze e ingiustizie non generano innovazione si basano su opacità e conflitti di interesse. Ai giurati di Edimburgo questo approccio radicale è sembrato convincente dopo che sono state diffuse le statistiche finali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla iniqua distribuzione globale dei vaccini nel bienio della pandemia. Dovendo riassumere questo secondo fatto è sufficiente dire che dieci paesi ricchi e non i più popolosi hanno potuto disporre di quasi l'80% di tutti i vaccini contro il Covid-19. Al resto del mondo sono andate le rimanenze di magazzino. Le vaccinazioni effettuate in modo così sbilanciato ingiusto e inefficiente hanno contribuito non poco a minare la credibilità dell'Occidente. E anche questo spiega il terzo fatto e cioè la frequenza con cui nell'ambito delle Nazioni Unite chi rappresenta la maggioranza della popolazione mondiale vota in aperto dissenso con i paesi del G7 si tratti dell'Ucraina o di Israele. Volendo ricucire col resto del mondo si potrebbe cominciare col contenere la bulimia di Pfizer per investire sul modello Mario Negri. Allora siamo in chiusura grazie Marco Travaglio grazie Monica Guersoni grazie Italo Bucchino grazie Massimo Giannini grazie spettatrici e spettatori restate con noi perché adesso c'è Aldo Cazzullo con la sua giornata particolare dal titolo Garibaldi la spedizione dei mille e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti ieri grazie a tutti i Grazie a tutti.